Ha chiuso i battenti lo scorso fine settimana con un lancio di palloncine e una rivederci alla prossima avventura, ma ha chiuso con soddisfazione e la mostra Dinosauri a Gubbio sulle tracce dell'estinzione che dal 27 febbraio 2015, giorno dell'inaugurazione, al 26 giugno 2016, giorno di chiusura, in mezzo a una pausa durante l'estate 2015, ha totalizzato qualcosa come 33 mila visitatori. I numeri sono stati forniti dalla Gubbio Cultura Multiservizi, che gestisce il polo espositivo del complesso di San Benedetto, ed arricchiti da alcuni spunti di riflessione. Dei 33 mila visitatori, 6 mila sono stati studenti, indice che la mostra ha saputo inserirsi nei percorsi didattici delle scuole. Altro dato da commentare è che il 10% di coloro che sono entrati al complesso di San Benedetto ha acquistato il biglietto cumulativo dei musei, che consentiva di poter visitare anche il Museo Civico di Palazzo dei Consoli. In cifre significa che almeno 3.300 persone, dopo aver visto i dinosauri, si sono poi traghettati verso il centro storico. I dati sono stati commentati con favore dal sindaco Filippo Stirati e dall'assessore Nello Fiorucci, che si dicono incoraggiati dai fatti, a continuare a sviluppare attività che possano consentire al turista di arricchire e di conseguenza allungare il proprio soggiorno a Gubbio. La mostra, promossa dal Comune in collaborazione con il Laboratorio Gola del Bottaccione e sostenuta dal Gala Alta Umbria, ha consentito di osservare le caratteristiche morfologiche a grandezza naturale, gli ambienti e gli stili di vita di dinosauri del Sud America e della Patagonia. Accanto a questo, laboratori didattici e filmati hanno arricchito l'offerta, catturando la curiosità di un pubblico costituito principalmente da studenti e famiglie, ma non solo. Un primo step che apre due strade. Una, quella delle mostre a tema legate agli aspetti scientifici della Gola del Bottaccione e alla presenza in loco del noto limite KT, utile per la teoria sull'estinzione dei dinosauri. Seconda, quella del potenziamento del complesso del San Benedetto come luogo espositivo, sfruttando tutti gli spazi utili. Era di qualche anno fa l'ipotesi di una chiusura con cupola di vetro dell'area claustrale.